Romagna Innovazione non è un esperimento in laboratorio, Romagna Innovazione è un pensiero elaborato nel laboratorio e applicato immediatamente in tempo reale alla realtà. Romagna Innovazione è un, visivamente potremmo tradurlo, in un capannone di mattone dove ci sono dei laboratori veri e propri e dove si pensa a che cosa fare per dare una maggiore competitività, per far diventare migliore il prodotto ad un prezzo inferiore. Questo è Romagna Innovazione sostanzialmente. La nostra è un'esperienza non in laboratorio, la nostra è un'esperienza concreta nella realtà ed è questa l'innovazione rispetto al passato. Non c'era mai stata nel territorio romagnolo un'applicazione di questo tipo dalla testa alla realtà concreta. Questo può essere un modo per arginare i problemi derivanti dalle difficoltà economiche. Niente di definitivo, non possiamo dare delle risposte sicure al riguardo. Questo può essere un modo.